Per esempio, quanto vale questa, secondo te? Tieni, non ti conviene riaprirlo. Ad ogni modo, molto meglio non indurti in tentazione. Insomma, si può sapere cosa volete da me? Una lettera. Una lettera di credito su una banca di Ginevra. Il prezzo del tuo tradimento. Se non mi sbaglio, è quella che hai in mano. Dammela. 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 a a a a a a a a